Eddie Miller è stato un famoso tenor sassofonista negli anni 20, 30, 40 e 50. E' famoso ancora oggi. Egli suonò a New Orleans negli anni 20 e negli anni 30 lo troviamo a New York assieme ai fratelli d'Orsi e a Bix by their back. Dopodiché, dopo la guerra, lo troviamo assieme a tante tante orchestre new yorkesi dell'epoca. Lo ricordiamo assieme a Bob Crosby e poi negli anni 50 lo troviamo assieme ai gruppi californiani di Dixieland. E' venuto in Italia, lo abbiamo catturato per un giorno, l'abbiamo fatto venire nei nostri studi per registrare assieme alla Milan College & Society questo Blues My Notice Suite Gives to Me. e poi 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 e poi